Il direttore Alberto Ro, finalmente ci siamo, inizia ufficialmente la stagione 23-24 della Casa Tese. Esatto, si parte oggi per una nuova prospettiva di fare sempre meglio, di fare sempre qualcosa di importante. È un gruppo molto cambiato, abbiamo tenuto l'ossatura di qualche anziano, poi i giovani 3 o 4 e abbiamo inserito tantissimi 2004-2005, perché purtroppo la nuova regola ci obbliga a fare questo. Mi è dispiaciuto tantissimo aver perso alcuni giocatori, solo per un discorso età, giocatori che hanno dato tanto l'anno scorso, in questi anni, però purtroppo le scelte brutte o belle che sono, ma vanno fatte e questo purtroppo è a discapito anche di alcuni ragazzi. È prestissimo a parlare di obiettivi, ma qual è l'obiettivo stagionale di questa squadra? Guarda, quest'anno sarà un campionato sicuramente, come tutti gli anni, molto livellato. La nostra ossatura, essendo rimasta, spero che ci dia qualcosa fin dall'inizio, però non sarà assolutamente facile, perché con 3 o 4 ragazzi in campo dovremo capire subito se questi ragazzi saranno in grado di fare questa categoria e di supportare queste pressioni. Ma saremo nel Girone A o nel Girone A? Allora, noi abbiamo fatto la domanda per il Girone A. Cosa succederà? Lo sapremo fra poco, ma non sicuramente subito. Sarà ai primi di agosto, non cambia niente per noi, sono sincero. Però era questione di, volevamo metterci in discussione, cambiare un attimino un po' le situazioni, cambiare un po' le squadre. Era anche un discorso per noi stessi per voler fare un cambiamento. Tutto lì. Quindi tra una settimana c'è la presentazione ufficiale della squadra? La presentazione sarà venerdì sera qui alla festa di San Gaetano. Speriamo che tutti i tifosi della Casatese vengano a salutarci e a vedere chi sono i nuovi ragazzi. Ritiro per Sondalo, qualche amichevole in previsione? Allora, la prima amichevole sarà il giorno che torneremo da Sondalo, che è il 6, se non mi ricordo male, che andremo a giocare contro l'Atrizium a Presezzo e dopo faremo tutta la preparazione qua, come al solito. Non c'è da sa che attendere, lunga vita al lupo. In bocca al lupo a tutti.